Erano scomparse a luglio in Siria, sono riapparse in un video datato 17 dicembre. Greta Ramelli e Vanessa Marzullo, le due cooperanti italiane, probabilmente sequestrate da una fazione legata ad Al-Nusra. Si tratta di jihadisti vicini ad Al-Qaeda, che operano in Siria e Libano. Le due ragazze chiedono alle autorità italiane di intervenire e riportarle a casa prima di Natale. Non si capisce però perché il video sia stato postato così tardi in internet. La farnesina per ora non commenta. Entrate in Siria dalla Turchia, le due sono sparite il 31 luglio, quando sono state rapite nella località di Abismu, dopo essere state attirate nella casa di un capo del consiglio rivoluzionario locale. Un giornalista italiano, che viaggiava con loro, è riuscito a fuggire e dare l'allarme. Da allora è il buio.